Please approach SCP-173 for testing Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo RetoGaming di Spyro Heroes Tale Oggi abbiamo un bel po' di cose da fare Oggi abbiamo un po' di cose da fare Ok a parte l'uovo qua altre cose non ce n'è Non possiamo proseguire Allora qui io devo salvare perché Qua sotto Ecco perfetto E qua io salvo di nuovo perché adesso abbiamo una parte un po' più complessa Cioè è assurdo È assurdo ma che cazzo Cioè ci passa attraverso Vabbè io qua sbagliato io porca buttana Cioè dico ma prima veramente ci passa attraverso Oh ma lo fa apposta ma che cazzo porca buttana Cioè dico gli passa attraverso Cioè questo gioco vi giuro fa solamente schifo Fa solamente schifo sto gioco Cioè è pieno di bug E ora ci va chissà perché Perché ho salvato ci va però Cioè veramente Ok Ok Dobbiamo tornare indietro Allora io spero di noi Dobbiamo sbagliare perché dobbiamo stare al teletransportore Allora Allora Dovrebbe essere questo il punto Io non ho visto fare altro da parte di quella della guida Quindi Non dovremmo sbagliare in teoria Vediamo Ok perfetto Vi da anche comunque un po' più breve del previsto E allora Noi qua abbiamo fatto secondo me un po' tutto Però stranamente ci sono altre cose che dobbiamo fare Come per esempio di qua O ad esempio di là Allora Ah no no Secondo qua dobbiamo farlo dopo Allora dobbiamo andare di qua mi sa prima Mi pare Aspeno se ci sono le cure io mi curo prima Dov'è? Dai curiamoci Perfetto Mi informo anche Che ci sono delle stalattite che cadono e mi ammazzano Cioè mi ammazzano mi feriscono praticamente Ok Uh mi ha fatto un po' Non mi ha aspettato Ok adesso andiamo di la Allora Nell'arte non c'è nulla Sapete se rompono? No? Ok proseguiamo Allora oggi non faremo comunque neanche Come la scorsa volta non faremo la stita praticamente Ma vaffanculo dai c'è veramente all'ultimo Allora Allora andiamo qua sopra Allora 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 Ok Questa non la ricordo pure Grazie. Porca buttana. Ma siamo seri? Ma che cazzo? Vabbè, quello come cazzo ci arriva? Porca buttana. Che in alto. E appena arriva riprendo la registrazione. Minarmente. E quelle come le prendo? Ah, non le prendo in automatico, mi sa. Allora, non la prendo. io qua salvo di nuovo non vorrei cadere non so se ci arriva da qua però che ce l'ho fatta per culo non so se ci arriva da qua non so se ci arriva da qua sto facendo un ultimo giro per controllare bene se c'è qualcos'altro perché la vedo un nemico però a parte quel nemico non vedo altro non so se ci arriva da qua niente a parte quel nemico non c'è nulla vabbè possiamo andare allora in ogni caso nella guida non ha trovato posti segreti quindi non lo so adesso devo tornare indietro buttarci non c'è nulla vabbè ok proseguire di qua qua in teoria non troveremo nulla a parte per un'altra gemma di luce ok adesso andiamo di qua e ci fermiamo qui video brevissimo oggi mamma mia sto ancorciando un pochettino troppo il video però il fatto è che comunque la guida si fa un po' più complicata perché fa il teletrasporter quindi non mi ricordo bene le strade comunque se il video vi è piaciuto come sempre mi lasciamo un bel mi piace video molto più breve del solito per questo video è tutto scusate per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao